Ciao bimbi! Oggi vi leggo un libro dal titolo Colori. Quanti colori? Cominciamo? Premi il punto grigio, vedrai quanti ne arriveranno. Premo, eh? Eccoli! Beh, all'inizio sono un po' timidi. Premi ancora. Premo. Stanno arrivando! Ma ne mancano. Premi un'altra volta. Così ci siamo. Ci sono tutti. Appoggia la mano. Chiudi gli occhi. Conta fino a cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque! Wow! Ora hai una mano magica. Iniziamo? Con le dita prendi un po' di blu e accarezza il giallo. Allora, prendo un po' di blu e accarezzo il giallo. Vedi? È diventato verde! Ora prendi un po' di rosso e accarezza il blu. Prendo un po' di rosso e accarezzo il blu. Visto cosa succede? Adesso prendi il giallo e accarezza il rosso. Prendo il giallo. Hai capito il trucco? Saprai rifarlo, vero? Andiamo avanti. Se scuoti il libro, cosa accade? Scuotiamo. Giro, giro, giro. Bene! Se inclini il libro verso destra, invece... Dov'è la destra? È qua! Vediamolo, ho inclinato. Molto bene! Ora chiudi il libro. Il colore di sinistra, questo, si unisce a quello di destra, questo. Chiudo il libro. Chiuso. Giriamo. Wow! Fantastico! E se con la mano sfreghi i colori su tutta la pagina, cosa succede? Ah! Sì! E per dipingere questi pallini di verde, cosa devi fare? Facciamo così. Anzi, così! Ho sbagliato! Così! Schiacciamo il libro. Wow! Proprio così! Andiamo avanti ancora. Il bianco schiarisce i colori. Dai, prova! Prendiamo un po' di bianco e lo mettiamo su tutti i colori. Andiamo. Vedi? Il nero, invece, li scurisce. Allora, nero. Vediamo. È facile, no? Oh! E se premi forte la pagina di sinistra sulla pagina di destra, vediamo. Allora, vediamo, adesso giriamo. Ecco cosa succede! Ora sai tutto. Appoggia qui la mano e conta fino a cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Finito! A presto! Ciao, bimbi! Ciao, bimbi! Ciao, bimbi!